Venite adore, venite adore Maria e Giuseppe Colo Larsinello si mettono in viaggio Siamo ad Oristano, sta prendendo un corpo, il presepe vivente, itinerante per le vie e le città di Oristano. E' il 20 dicembre 2013, la prima in assoluto ad Oristano. Tra due ali di folla. Grazie a tutti.